La mia squadra quando gioca a calcio con la determinazione, la voglia, la costanza, il sacrificio è una squadra di alta classifica, in momenti in cui ci adeguiamo agli avversari o quando meno prendiamo la partita sotto campo, giustamente andiamo in difficoltà e poi possono uscire delle prestazioni non consone rispetto al valore reale della squadra. Questa è una dimostrazione del nostro campionato di quest'anno, quando la partita viene presa per il verso giusto, con la giusta determinazione, è normale che sono giocatori che riescono a fare la partita in qualsiasi momento e oggi l'abbiamo fatta soprattutto nel primo tempo dove abbiamo dominato, non abbiamo rischiato quasi mai nessuna azione per quanto riguarda la squadra avversaria. Abbiamo chiuso quest'annata in casa con un risultato importante perché sapevamo l'insidio della partita perché era una squadra che era imbattuta e quindi è normale che oggi bisogna fare un plauso ai ragazzi anche dopo una brutta prestazione di mercoledì a Scalambra, Serrone. Che cosa ha detto in settimana i giocatori per motivarli? Abbiamo sentito anche la società, le parole abbiamo letto della società, molto dure. È intervenuta soprattutto la società che a distanza di pochi giorni tra il mercoledì e poi la domenica nel giocare non è che si può lavorare più di tanto, soprattutto in questa fase della stagione dove le energie poi cominciano pure un po' a scarseggiare. Però ecco la società è intervenuta in maniera sostanziosa, ha fatto capire ai ragazzi che questo settimo posto per loro era importante e quindi lo dovevamo mantenere. I ragazzi oggi l'hanno dimostrato. Questo gol di Castiglio con Giunta che gli ha dato pala, insomma la Juniores oggi ha fatto anche il suo. Sì sì sì, ma guarda io quando a dicembre ci siamo visti con la società abbiamo detto di integrare la Rosa con gli Under, era dovuto proprio a questo fatto perché il beneficio poi ce l'aveva anche la Juniores, le dimostrazioni sono i risultati che sta facendo in questo campionato regionale che non è mai facile e poi giustamente oggi ho dato spazio a tutti i ragazzi della Juniores che si sono ben distinti in questo campionato e Castiglio già fa parte da noi quasi dall'inizio, quindi mi sembra che è pure il secondo gol che fa, quindi c'è una buona prospettiva per i ragazzi e per il futuro. Mister, domenica c'è l'ultima di campionato, Mister Parisella cosa farà l'anno prossimo? Niente, noi domenica chiuderemo questo campionato e poi ci sederemo a tavolino con la società, ben consci di quello che bisogna fare, quindi spero che ci sia un futuro rosio per questa società perché è composta da persone importanti, è composta da persone rispettose, è composta da persone che vogliono fare calcio a una certa maniera, non è facile in queste categorie trovarle. Parisella vuole rimanere? Ci stanno tutti i presupposti. Grazie Mister, complimenti, comunque si è andata per questo anno dove ha dimostrato insieme alla squadra di poter fare bene qualche ombra, ma ci sta nel corso di un campionato. Qualcosa a livello di matricola, purtroppo era normale che si poteva pagare qualche cosa, cambio d'allenatore poi anche in corso d'opera, non sempre le cose vengano assorbite subito, però piano piano la squadra poi ha dimostrato di salvarsi in maniera anticipata 4-5 giornate, quindi questo era un po' il programma della società. E allora in bocca al lupo per l'ultima giornata e ci risentiremo, speriamo in estate, per parlare della Mistral che sarà. Sì sì, in bocca al lupo a tutti. Allora abbiamo parlato con Mister Parisella di quella che è stata la stagione, perché questa è l'ultima in casa, adesso chiediamo a chi ha fatto questa squadra, a chi fa parte di una dirigenza che in settimana si è fatta sentire e che penso a cui verrà affidato anche il compito per il futuro di costruire la Mistral, dare un voto su questa stagione e parlarci magari di qualcosina riguardo alla prossima. Francesco Grasso. Come hai anticipato, è giusto fare un elogio, un applauso ai ragazzi per la prova di oggi, perché sono stati ripresi dal sottoscritto direttamente venerdì dopo la prova in colore di mercoledì, quindi è giusto oggi dargli merito di una prova che per alcuni può sembrare una vittoria arrivata al termine di una partita di fine anno, però non è così, perché il Vodice era imbattuto nel 2018, puntava a mantenere questo record personale di squadra e siamo stati bravi a metterla sui binari giusti dall'inizio e questa squadra ha dimostrato che quando vuole giocare, come diceva in precedenza il mister, a livello tecnico ha veramente pochi uguali in questo campionato, se non proprio le prime della classe. Per quanto riguarda il voto complessivo della stagione, non voglio dare giudizi, siamo contenti come società perché l'obiettivo minimo che era quello della salvezza è stato raggiunto con largo anticipo, è vero che questa squadra è formata da giocatori che con questa categoria ci entrano ben poco, però era un anno di ambientamento un po' per tutti quanti, per la società, era un contesto nuovo per qualcuno che ha sposato questa causa, quindi ci riteniamo soddisfatti, abbiamo blindato il settimo posto che è un risultato comunque abbastanza importante come primo anno di promozione e ci prepariamo al meglio per affrontare quella che sarà la prossima stagione che la ministra della città di Caida vuole vivere da protagonista. È una dirigenza, è una società sana, è una società che ambisce sempre a dare il meglio, quali sono gli obiettivi adesso, è chiaro deve ancora finire questa stagione, ma quali sono le idee per il prossimo anno e soprattutto resterà mister Parisella? Sì, è una società che punta a far stare tranquilli i propri tesserati, a non fargli mai mancare niente, gli obiettivi ancora presto forse per parlarne, però c'è la voglia di crescere, c'è un progetto ambizioso alle spalle di questa società, quindi facendo un passo alla volta senza fare proclami o volipindarci, proviamo a venire su, a crescere tutti insieme e a crescere anche dagli errori che sono stati fatti quest'anno, perché ce ne sono stati, gli errori aiutano a crescere, una società soprattutto giovane come la nostra e sì, c'è la voglia di continuare con mister Parisella, penso la sua conferma sia solo una formalità, come diceva lui, bisognerà sedersi a tavolino, però non penso ci siano problemi da questo punto di vista. Francesco, io ti faccio i complimenti, è perché ti stai lanciando in questa nuova avventura come direttore sportivo, ne stai cogliendo i risultati, è perché a tutta la mistra città di Gaeta per aver dimostrato che fare calcio a questi livelli in zona si può fare, si può fare con delle società sane che ci tengono, come dicevi tu, ai propri tesserati e ci tengono non solo al presente ma anche al futuro. Sì, si può fare soprattutto se c'è il rispetto dei ruoli, se ti lasciano lavorare in tranquillità come fanno tutte le persone che fanno parte di questa società, che sono persone serie, rispettose e che stanno man mano venendo fuori anche nel mondo del calcio, si stanno facendo conoscere e apprezzare da tutti perché permettono ai propri tesserati, a chi fa parte di questa società di svolgere il proprio lavoro in maniera tranquilla. Intanto ti ringrazio di nuovo, ci risentiamo quest'estate, per il calciomercato qualcuno che resta sicuro ce l'hai, insomma diccelo, non diciamo i nuovi acquisti perché ovviamente è presto, però so che tu già ti stai muovendo, ma per chi dovrà rimanere dei nomi forti? Resta Francesco Grasso. Resta Francesco Grasso e questa è una garanzia, grazie Francesco. Grazie a te Vito per tutto, da quando hai iniziato a fine agosto, inizio settembre ad oggi non ci hai mai fatto mancare niente, tu e tutta la redazione di Telecolfo.